Il principe Harry e Meghan hanno deciso di onorare la regina chiamando la figlia con il suo soprannome. Ma come sarà l'infanzia della neonata a confronto con quella di sua maestà? La piccola Lilibet Diana giace nella sua culla californiana indossando un nome di battesimo molto significativo accanto al pannolino e alla tutina. Chiamata per il soprannome della sua bisnonna, la regina Elisabetta, è già soprannominata lei stessa ci è stato detto che la famiglia e gli amici di Lilibet Junior la chiameranno Lili. E questa sarà sicuramente solo la prima deviazione dal suo omonimo regale. Punto. Non c'è dubbio che ce ne sarà molto di più, poiché vive una vita molto diversa da sua maestà. Dalle famiglie allo stile genitoriale, dall'educazione alle aspettative, qui mettiamo a confronto le infanzie, conosciute e attese, dei due Lilibet. Nato con taglio cesareo alle 3-20 del 21 aprile 1926 a casa del nonno materno al 17 Bruton Street, Mayfair. Elisabetta Alexandra Mary dopo sua madre, bisnonna e nonna era la prima figlia del duca di York, il principe Alberto, che sarebbe poi diventato re Giorgio VI, e moglie Elisabetta. Punto. Era quindi la terza in linea di successione al trono. Lili. Nato venerdì 4 giugno alle mezzogiorno meno 20 al Santa Barbara Cottage Hospital, in California. L'ospedale è una fondazione senza scopo di lucro fondata nel 1888 da un gruppo di 50 donne, che ben si sposa con il sostegno di Meghan all'emancipazione femminile. Lili non è automaticamente una principessa, ma può usare il titolo di Lady. Tuttavia, Meghan e Harry probabilmente opteranno per Miss, poiché Archie è un maestro. Genitorialità. Regina. Nonostante il loro rango e la loro responsabilità, i suoi genitori non erano lontani. Secondo quanto riferito, la maggior parte delle mattine Lilibet e la sorella Margaret correvano felici nella loro camera da letto. L'arcivescovo di Canterbury una volta rimase sbalordito quando, in visita a Giorgio V, trovò il re che strisciava, fingendo di essere un cavallo, con Elisabetta come stalliere. Lili, Meghan e Harry hanno entrambi preso il congedo parentale e Harry non ha nascosto il suo desiderio di fare i genitori in modo diverso dal suo distaccato padre, e la regina stessa, rimanendo vicino ai suoi figli. Ha detto. Se ho provato qualche forma di dolore o sofferenza a causa del dolore o della sofferenza che forse mio padre o i miei genitori hanno sofferto, mi assicurerò di interrompere quel ciclo. Ha parlato con affetto di poter portare Arci in bicicletta e in spiaggia.